Si annuncia un Natale in tono minore ad Avellino, dei 370.000 euro dei fondi regionali ex post, l'amministrazione ne riesce ad investire 197.000, così distribuiti 95.000 per le luminarie, 45.000 per le casette e 60.000 per diversi eventi per la valorizzazione enogastronomica del territorio, tra cui l'Irpinia Street Mood, Fiano e Fiati, Tappa e Stappa, e il già discusso Led Zeppelin costato 8.000 euro. Appostati anche 4.000 euro per un evento finale in programma a Villa Mendola, ma non ancora definito. La novità è che le luminarie si dovrebbero estendere quest'anno anche nella zona del centro storico e non rimanere confinate soltanto lungo il corso. Ma a meno di un mese dal Natale la città è ancora spoglia del clima di festa. Confcommercio accusa siamo in grave ritardo, si sono persi sei mesi per spartirsi le poltrone e questo è il risultato. Per sei mesi l'amministrazione è stata in stand-by per una pausa amministrativa, quindi ci sta pure che hanno perso dal tempo. Non è giusto, ma non va bene, ma è successo. Qui ad Avellino, rincara De Angelis, i commercianti sono costretti ad essere meri spettatori quando altrove diventano protagonisti attivi di eventi per valorizzare i territori. Abbiamo una buona classe di imprenditori ad Avellino, in tutta la città, non solo al corso di Vettore Emanuele, ma in tutta la città, che va valorizzata, va semi-consentire anche un po' esaltata, perché comunque sono imprenditori che anche in un momento di crisi ci credono, mantengono le saracene schialzate. Ma almeno una nota positiva c'è, quest'anno non dovranno autofinanziarsi per le luminarie. Da quello che sembra, quest'anno i commercianti non saranno costretti a cacciare soldi per pagare il fitto delle luminarie, non dovranno contribuire, il Comune ha dei fondi da spendere e ha fatto un banto. Siamo qua in attesa.